Guardate la bellezza di questa Spectrum, Spectrum Steel Water, è la canna che preferisco per la pesca nei laghietti, soprattutto a metodo con dei pesci di questo genere qui. Perché la preferisco? Guardate la piega di questa canna qui, è completamente rotonda. Questo mi consente di ammortizzare tutte le fughe del pesce e naturalmente, una bellissima carpa da 3.000, da 3 chiedi circa. Le Spectrum Steel Water hanno questa caratteristica qui, canne a 2 metri e la 3 metri e la 3 metri e la 30, cioè la 10 e la 11 piedi, sono perfette per questo impiego. Ci consentono di tenere dei pesci giganti e sono loro che, vedete, stancano il pesce. Vedete? Io non devo fare nient'altro che assecondare le fughe del pesce e cercare di portarle lentamente in superficie. Questo è il vantaggio di utilizzare una Spectrum. Tante canne vanno benissimo, sono perfette, ma queste sono ideali per questo tipo di pesca. Guardate che carpa, che forza che ha questa carpa. Una carpa regina con delle pinne arancioni finali veramente molto grandi e che muove tantissima acqua.